mmmm come fa? quando volete? allora un attimo allora ragazzi come fa? facete così? ricordate tutte le cose al venito? si 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 non cagate merda 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 vai motore azione com'è bello passeggiare con guariz anche no quando le fa brinduare no anche quando il giorno dei più neri guarda il sole fa soltanto ma anche no ed è tanto bello passeggiarti accanto no che non puoi fare almeno di gioir e guarda intorno a te ti senti un re no porti il latte un bel te fa vergogna provo provo bravo puri stai cazzo vai provo Grazie.